Fabiano Avogadri Luigi Bariani numero 54 per la loro twinkle che è chiuso in seconda posizione di classe nonché 46esima della generale seconda posizione di Racing Start 1600 plus o plus che dir si voglia se la leggete in latino o in inglese l'importante è la sostanza, la coppa di secondi di classe Avogadri Bariani Terzi di classe di Racing Start 1600 plus sono... Grazie a tutti